La Lucchese riparte da dove aveva interrotto, allenandosi all'Acquedotto, pomeriggio di Capodanno sul campo per i rossoneri che in vista della partita di martedì si sono allenati anche il primo gennaio. Nonostante l'annuncio dei giorni scorsi da parte del direttore generale Giovanni Galli, non c'erano i nuovi acquisti, motivi di nulla osta tra pela dall'ambiente, anche perché gli accordi ormai sarebbero cosa fatta e tra poche ore i nuovi elementi, tre, dovrebbero essere a disposizione di mister Galderisi, abili e arruolabili anche per la partita di Befana contro Propriacenza. Pure sul fronte uscite al momento non ci sono notizie ufficiali, ma anche in questo caso le decisioni sarebbero ormai prese e per annunciarle si attenderebbero solo i documenti firmati. La curiosità a questo punto è grande, la Lucchese 2015 potrebbe avere un volto diverso da quello che conoscevamo. La Lega Pro intanto ha ufficializzato il calendario della seconda e della terza giornata del girone di ritorno che vedrà la Lucchese impegnata rispettivamente in casa contro il Gubbio sabato 17 gennaio alle 15 e poi a Savona sabato 24 gennaio alle ore 15.